Il mercato del Foggia non finisce qui, la società rossonera non lascerà nulla di intentato pur di arrivare all'obiettivo fissato ad inizio stagione. Così uno dei due patron del Foggia Calcio, Fedele Sannella, anche a nome per conto dell'altro patron Massimo Curci, dopo aver chiuso l'operazione di piazza, terzo acquisto rossonero seguito a quelli di Faber e Deli. Stiamo mantenendo la promessa di consegnare a Stroppa per la ripresa del campionato una squadra più forte e competitiva e non è finita qui, continua. Rinforzare la rossa attuale vuol dire anche non cedere i calciatori forti come Vacca e Chiricò, chiesti da Palermo e Parma. Vacca è un punto fermo del Foggia, un giocatore per noi imprescindibile, con in testa una sola cosa, conquistare la promozione con il Foggia. Lo stesso vale per Chiricò. Infine, capitolo cessioni, vogliamo dare a chi è stato utilizzato poco l'opportunità di trovare spazio in qualche altra squadra. Molti sarebbero titolari in quasi tutte le altre società di Lega Pro ed è giusto che vadano a giocare. Sono tutti ragazzi che hanno a cuore questi colori, ma per il loro bene e le loro carriere saranno ceduti.